Nella serata di ieri un violento frontale avvenuto sulla statale 693 del Gargano nei pressi dell'uscita di San Nicandro Garganico. Due auto, una Fiat Panda con a bordo quattro persone di cui una ragazza deceduta e l'altra gravemente ferita e trasportata presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo con l'elisoccorso del 118. Tra le vittime Libero Zaffarano e Salvatore Biscotti, quest'ultimo padre di due bambini, le due vittime entrambi a bordo della loro panda erano di Vico del Gargano, mentre il 62enne Matteo Giovanditto, deceduto a bordo della sua chia, era molto conosciuto a San Nicandro Garganico dove insegnava la scuola primaria. Il commento del sindaco Matteo Vocale a qualche ora dall'incidente scrive sulla pagina social di una persona infaticabile e appassionato del territorio e delle sue bellezze, condividendo con la moglie Rossella, con i figli, parenti e amici il grande dolore e poi il cordoglio alle famiglie degli altri tre giovani. Immagini terrificanti, quelle di due carcasse d'auto di cui una a cavallo del Cavalcavia, la percorrenza della viabilità è stata deviata in quanto le carcasse delle auto occupavano i due sensi di marcia. Le vittime erano tutte appartenenti alla comunità dei comuni garganici, sul posto oltre al 118 intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere e la polstrada. A dare notizia di cordoglio e vicinanza alle famiglie, anche il sindaco Michele Di Pumpo di Cagnano Varano ha dedicato vicinanza al dolore dei familiari delle quattro vittime, una strage che ha straziato i cuori di altre quattro famiglie di tutta la cittadinanza ora a lutto. Al momento ancora ignote le cause che hanno provocato il brutale incidente. Un incidente davvero tragico quello che è accaduto ieri sera che ha affonestato buona parte del Gargano, tre comunità, San Nicandro, Vico e Ischitela che piangono quattro vittime. Un pensiero particolare va a Matteo Giovanditto, il nostro compaesano, che è una persona conosciutissima, un docente della scuola primaria che lascia un vuoto incolmabile, siamo tutti increduli. La strada a scorrimento veloce del Gargano si rivela ancora una volta strada della morte. È il momento di fare qualcosa sicuramente per tutelare la percorrenza di quell'arteria, che è un'arteria importantissima soprattutto nel periodo estivo.